La metodica stamina del professor Vannoni finisce in consiglio regionale. L'Assise ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo nazionale, nello specifico il Ministero della Salute, in tempi brevissimi nella ricerca di soluzioni che possano garantire a tutti coloro che ne facciano richiesta, parallelamente alla sperimentazione scientifica e decreti legge, la possibilità di accedere alle cure staminali secondo la metodica stamina sotto la responsabilità dei richiedenti, del medico prescrittore e del direttore del laboratorio di produzione della metodica, proprio come si fa quando i genitori sottopongono i propri figli ai vari vaccini. L'alternativa per i malati affetti dalla rara malattia genetica sma, atrofia muscolare spinale, è la morte. La Regione Abruzzo, ha detto il consigliere regionale Emilio Nasuti, che ha presentato la risoluzione, è la prima ad essersi mossa in soccorso di questi pazienti e farà da apripista anche per le altre regioni. Il Ministero della Salute ci deve dare una risposta. Noi abbiamo fatto stare su soluzione perché non abbiamo competenze, non possiamo legiferare in merito, però possiamo essere da stimolo, da pungolo. Siamo convinti che anche le altre regioni si allineranno e sarà una nazione che si muoverà verso queste tante famiglie che quotidianamente vivono questo dramma. Ad oggi il decreto del Ministro Lorenzin prevede l'accesso alle infusioni staminali presso gli spedali riuniti di Brescia solo dopo la sperimentazione della metodica. Un atto che di fatto giustifica il rigetto da parte dei giudici delle richieste che i malati presentano per accedere alle cure, proprio come è accaduto al papà della piccola Noemi di soli 14 mesi. Dopo il rigetto che c'è stato pochi giorni fa comunque non è stato facile reagire, però comunque oggi per noi è un bello spiraglio, è importante ciò che la regione ha fatto quest'oggi, anche perché si vede che è vicino alle nostre situazioni. Ora non è vinta, perché comunque c'è ancora tanto da fare, speriamo che il Ministro della Salute capisca veramente che qui c'è in ballo la vita di tante persone e non possono stare ad aspettare le carte, ma solamente le infusioni di queste staminali. Sul sito dell'associazione www.progettonomi.com ci sarà la risoluzione appena approvata. Una cosa sola è che Noemi con la sua patologia non può arrendersi, non si arrenderà mai e noi saremo solamente i suoi portavoci, i portavoci di chi ha bisogno veramente.